L'Espagnol Sono molto contento di essere approdato in un club come l'Espagnol Perché è un club di storia che è sempre stato uno dei club più importanti di Spagna Quindi sono molto contento e spero di dare tanto per questa maglia molto gloriosa Come portiere mi definisco un portiere che può aiutare la squadra Mi piace sempre dare una mano a compagni e alla difesa Sono uno che piace parlare in campo ma sono convinto che essendo un gioco di squadra Tutti ci daremo una mano e tutti lotteremo per il solito obiettivo Sicuramente è una delle città più belle del mondo Sono molto contento appunto di essere approdato qua È un campionato molto importante, molto duro Dove ci sono squadre forti ma sono convinto che l'Espagnol potrà dire la sua in maniera molto positiva Un saluto todos los pericos E ci vediamo tutti in questo stadio A presto